Si va a cena fuori, son bella, però giù ma chiusa, piove un po'. Vorrei fare una specie di spogliarello, perché metterei in mostra un corpetto con perline comprato proprio ieri con mamma, sicuramente sarebbe un momento forte per stare con te, e ti amo già un po', ma non si può fare, perché la vita deve continuare. E poi nessuno mi guarda, qualcuno poi, anzi ma davvero, in cucina giù per terra, dove ho messo scatole, scatole per me, dove ho messo scatole, scatole per te, dove sei, ti intratieni in una fitta discussione con un'amica parigina, io non ne posso più, vado a casa.